E' possibile trasformare un farmaco di bassissima efficacia o addirittura di efficacia pari a zero in un farmaco di grande efficacia, semplicemente risistemando un pochettino i dati statistici? Ora vi spiego. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che è stato esposto di recente dal matematico Norman Fenton e dall'informatico Martin Neill. Questi due studiosi hanno mostrato delle tabelle Excel con dei calcoli e questi calcoli dimostrano che è possibile gonfiare in modo straordinario l'efficacia di un farmaco se solo si categorizzano i dati osservazionali in un certo modo. Non vi metterò link a questo loro lavoro che troverete usando un motore di ricerca perché questa piattaforma è un po' troppo sensibile a certi temi. Naturalmente vi parlerò di una realtà immaginaria, qualcosa che non è mai accaduto su questo pianeta, no? Perché ovviamente si spera che le persone che sono addette al controllo, diciamo così, dei dati, le persone, i centri di controllo delle malattie, della prevenzione, sanno fare il loro mestiere e ovviamente non fanno cose come quelle di cui vi parlerò adesso. O le fanno? Bah, lo lascio decidere a voi, guardate un po' quello che è successo in epoca recente e lascio a voi determinare se in che misura alcune delle cose di cui vi parlo oggi sono realmente accadute, cioè che i dati che sono stati forniti, ad esempio dell'efficacia di certi farmaci somministrati a scopo profilattico, erano dati che erano sensati oppure se erano sostanzialmente il frutto di una sorta di illusione statistica. Ok, allora è tutto molto semplice in realtà, però bisogna stare un po' attenti perché c'è da introdurre una notazione, no? Devo introdurre tutta una serie di variabili, di grandezze e poi con queste grandezze, cercando di non incasinarci troppo, derivare le due tre formulette che dobbiamo derivare. Allora permettetemi di apparecchiare la tavola, cioè nel senso di definire il contesto. Il contesto è una certa popolazione, diciamo che questa popolazione ha un numero n totale di abitanti, n potete immaginare sia un milione, dieci milioni, fate voi, non è così importante. Questi abitanti in un intervallo di tempo totale di totale vengono somministrati con un farmaco a scopo preventivo per combattere una non meglio specificata malattia. Ora questa somministrazione avviene diciamo in troncio, in periodi di tempo successivi e diciamo che ci sono m periodi di tempo successivi e ognuno di questi periodi di tempo ha una durata tau e in ognuno di questi periodi di tempo vengono somministrate n persone, quindi n totale sarà semplicemente m per n. Ok, ora ovviamente le persone non trattate si ammaleranno con un certo tasso di ammalamento chiamiamolo P che è quindi la percentuale di persone che in un determinato periodo diciamo si ammalano tra le persone che non hanno ricevuto il trattamento a scopo profilattico e d'altra parte le persone che ricevono il trattamento saranno caratterizzate da un tasso di ammalamento che è differente P primo e ovviamente questo tasso di ammalamento delle persone che ricevono il trattamento si spera che è inferiore, no? E quando si calcola la differenza tra P meno P primo questa differenza viene definita riduzione assoluta del rischio. Ci si può però interessare anche a una riduzione relativa del rischio e la riduzione relativa del rischio è per definizione l'efficacia del farmaco quindi è P meno P primo a cui divido ancora per P quindi posso anche scrivere come 1 meno P primo diviso P. Ora vediamo immediatamente che se P primo uguale a zero cioè la percentuale di ammalamento è zero cioè chi prende il farmaco non si ammala più allora avremo E l'efficacia uguale a 1 100% un farmaco estremamente efficace. Se P primo è uguale a P P primo diviso P diventa 1 1 meno 1 è zero vuol dire che il farmaco non è assolutamente efficace è peggio di un placebo no? Perché ovviamente non va a modificare in nessun modo questo tasso di ammalamento. Molto bene. Ora cosa facciamo? Beh ovviamente questi 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 valori P P primo non sono conosciuti no? Vengono dedotti osservando quello che accade nella popolazione raccogliendo i dati tra i malati e i non malati tra i trattati e non trattati che possono ammalarsi o non ammalarsi. Ora così facendo si arriva a una stima che dovrebbe essere corretta no? A ogni istante quindi la campagna di somministrazione parte dal tempo T1 che è tau poi continua al tempo T2 2 tau e va avanti fino al tempo finale Tm che è uguale a m tau e a ognuno di questi tempi è possibile ovviamente stimare qual è la qual è l'efficacia fino a quel momento del farmaco ed è quello che faremo insieme no? Di prendere un certo un certo istante di tempo e dire in quell'istante di tempo qual è l'efficacia del farmaco e cercheremo di capire se è vicina o no all'efficacia reale del farmaco quella che ovviamente magari il fabbricante dovrebbe conoscere a seguito delle sue specifiche sperimentazioni. Bene adesso per fare questo dobbiamo specificare quali sono le prescrizioni no? Ed è qui che entriamo in quell'ambito dove se usiamo delle prescrizioni strane per non dire demenziali ecco che possiamo trasformare un farmaco con efficacia zero a un farmaco che può avere un'efficacia ad esempio superiore all'80 per cento un'efficacia apparente ben inteso. Allora quali sono queste prescrizioni? Ebbene la prima prescrizione è semplicemente questa che vengono considerate come ufficialmente malate non trattate non solo le persone malate non trattate ma anche tutte quelle persone che sono state già trattate se non è passato più di un certo tempo dal trattamento e questo tempo noi diremo che è un tempo k volte tau cioè che se ad esempio tau si esprime in settimane k sarà un certo numero di settimane cioè se non è passato un certo numero di settimane dall'assunzione del farmaco la persona malata viene ufficialmente considerata come non trattata. Ad esempio poi nell'applicazione che faremo in casi specifici prenderemo ad esempio il caso in cui bisogna aspettare almeno tre periodi tre settimane. Sarà mai accaduto che qualche centro di controllo abbia adottato cose di questo genere ma soprattutto su che criterio? Uno potrebbe dire ah ma un farmaco ha bisogno di tempo per agire magari ha bisogno di almeno tre settimane prima di tre settimane quindi è come se non fosse stato assunto. Ovviamente è una cosa assurda da pensare perché ovviamente poi quando si vanno a calcolare delle efficaci si vuole che quelle efficaci siano rappresentative del momento in cui viene assunto il farmaco ma diciamo in questo mondo immaginario un po' in preda alla follia accade che questo criterio è stato suggerito e addirittura adottato. Ovviamente il secondo criterio conseguenza del primo è che vengono considerate come persone ufficialmente malate trattate le persone che sono state di fatto trattate ma che hanno ricevuto il trattamento da almeno un tempo k tau. Dopo ci sono ancora due prescrizioni che completano questo quadro un po' bizzarro e che consistono nel definire quali sono le persone ufficialmente trattate non trattate quando non sono malate. Allora quando non sono malate le persone ufficialmente trattate sono tutte le persone trattate a prescindere che siano state trattate da un tempo inferiore o superiore a k tau. Similmente vengono considerate come persone ufficialmente non trattate esclusivamente le persone non trattate quindi senza includere quelle che avevamo incluso prima. Queste sono le prescrizioni. Di nuovo non entro nel merito se la umana è in grado di produrre prescrizioni di questo tipo oppure se questo è soltanto un piccolo esercizio didattico immaginale. Bene adesso vogliamo quindi calcolare queste efficaci che possiamo dedurre dai dati osservazionali utilizzando queste prescrizioni. Qual è il tempo a cui possiamo fare la prima valutazione? Il tempo a cui possiamo fare la prima valutazione è dopo il tempo tk perché dobbiamo aspettare almeno un periodo k tau perché se non è passato almeno quel tempo k tau non abbiamo persone ufficialmente malate trattate quindi non possiamo stimare nulla. Però dal tempo tk più qualche cosa chiamiamo questo qualcosa q allora possiamo ovviamente iniziare a stimare l'efficacia. Qui naturalmente q potrà essere 1 2 3 avanti avanti fino a m meno k meno 1 perché fino a m meno k meno 1 perché se q è uguale a 1 abbiamo tk più 1 questo è il primo momento in cui possiamo fare una stima dell'efficacia. E l'ultimo momento quando q è rimpiazzato per m meno k meno 1 otteniamo il tempo tm meno 1 quindi una settimana, se tau è una settimana, una settimana prima dell'ultima settimana perché alla fine dell'ultima settimana non ho più persone non trattate e quindi di nuovo non sono più in grado di stimare nulla. Ok ma noi prenderemo un istante generico tk più q e con questo istante generico vogliamo calcolare che cosa? Beh l'efficacia quindi al tempo k più q che quindi sarà che cosa? Sarà 1 meno p primo k più q diviso p k più q. Questa che cos'è? Beh questi sono i tassi di ammalamento ufficiali al tempo tk più q. Questo è il tasso per le persone ufficialmente ammalate e trattate e questo è il tasso delle persone ufficialmente malate e non trattate. E dobbiamo adesso stimare queste due quantità. La prima quantità come possiamo caratterizzarla? Allora la prima quantità partiamo da questa. Questa prima quantità p k più q primo che cos'è? Beh ovviamente è il rapporto tra il numero di persone ufficialmente malate trattate, ufficialmente malate trattate ovviamente all'istante k più q, diviso il numero di persone ufficialmente ufficialmente trattate in quel medesimo istante, u. Ok, adesso devo stimare quindi queste persone qua, quelle ufficialmente malate trattate. Ora quelle ufficialmente malate trattate so che sono solo quelle che sono state trattate da un tempo superiore a kt. Quindi non posso, devo partire dall'istante, non posso guardare le cose all'istante tk più q, ma devo partire dall'istante tq, questo istante è dato da tq più k tau, quindi io devo partire da qua, perché soltanto fino a questo istante le persone che sono state trattate sono state ufficialmente trattate quando le considero nella situazione in cui si ammalano. Quindi qua devo ovviamente considerare il numero di persone fino a questo momento, il numero di persone fino a questo momento sono nq, quindi q per n, e a queste persone ovviamente siccome voglio considerare quelle malate devo applicare il tasso di ammalamento per le persone trattate, p' per nq, e qui ovviamente devo poi dividere per, in questo caso, il numero totale di persone ufficialmente trattate, e come vi ho spiegato prima, in questo caso questo criterio temporale non c'è più, quindi in questo caso avrò n k più q, quindi questa espressione mi dà p' per n, che è q per n, diviso k più q per n, gli n ovviamente si semplificano, e resto con p' q diviso k più q, quindi questa è la formula per il tasso ufficialmente, ufficiale di ammalamento all'istante tk più q. All right, fin qui tutto bene. Tra l'altro questa espressione, se la guardate come una funzione di q e la derivate rispetto a q, vedete che è una funzione che cresce con q, quindi questo tasso di ammalamento cresce col passare del tempo. Ok, adesso dobbiamo calcolare questa quantità. Allora, per calcolare questa quantità, devo ragionare nello stesso modo, devo scrivere p k più q, devo dire che cos'è questa? Beh, è il numero di persone ufficialmente malate non trattate, ufficialmente malate non trattate, k più q è l'istante, diviso il numero di persone ufficialmente non trattate al tempo k più q. Andiamo qua. Ora, qui bisogna capire di nuovo bene che al denominatore, le persone ufficialmente non trattate, ovviamente queste persone sono tutte le persone che sono state, diciamo, la popolazione totale, meno il numero di persone trattate fino al tempo k più q. Applicando una di quelle prescrizioni che dice che di nuovo, no? Non si fa distinzione di tempo. Invece sopra devo mettere che cosa? Beh, tutte le persone che si sono ammalate, ovviamente, tra quelle non trattate, ora qui, vado avanti, questo denominatore ovviamente è dato da che cosa? Da m meno k meno q per n. Ora, le persone, ovviamente, non trattate che si ammalano, devo usare il tasso di ammalamento per le persone non trattate, moltiplicandolo per tutte le persone che fino a quel momento non hanno ancora ricevuto il trattamento, m meno k meno q per n. Però devo anche aggiungere, che cosa? Devo anche aggiungere, ovviamente, quelle persone, secondo quell'altra prescrizione, che non hanno fatto il trattamento da un tempo sufficiente, il famoso tempo k tau. E quindi devo poter aggiungere anche, col tasso adesso delle persone che hanno ricevuto il trattamento, devo fare p' k n. E, ovviamente, mettendo insieme quello che c'è qui e quello che c'è qui, gli n si semplificano, quindi qui posso togliere questo n, qui posso scrivere p n meno k meno q più p' k. E quindi adesso ho una formula qui, una formula qui, e per calcolare l'efficacia, devo fare 1 meno il rapporto tra queste due espressioni. Tra l'altro anche questo tasso di ammalamento, se deriviamo questa espressione rispetto a q, vediamo che la derivata è positiva, quindi anche in questo caso il tasso di ammalamento cresce nella misura in cui passa il tempo. Adesso cancello e scrivo semplicemente la formula che si ottiene semplicemente da questa, facendo il rapporto, naturalmente tra queste due quantità, non faccio tutti i dettagli, vi do la formula subito. Cancello. Allora, ecco, ho scritto l'espressione che si ottiene per l'efficacia del farmaco al tempo tk più q, quindi k più q per tau. A questo tempo la valutazione è questa. Adesso ovviamente questa formula è un po', come dire, sì, complicatina, tra virgolette, nel senso un po' così, ci sono tanti termini, a noi non ci interessa, abbiamo derivato la formula generale, ma adesso cerchiamo di guardare un'applicazione semplice. Allora, la prima cosa che facciamo è quella di dire, ma immaginate che quel farmaco abbia veramente efficacia zero, no? Se il farmaco è efficacia zero, vi ricordate, efficacia zero è la stessa cosa che p' uguale a p. Quindi nella formula, se l'efficacia è zero, ottengo una formula semplificata, no? Nella formula semplificata, quindi avrò uno meno, a questo punto, se l'efficacia è zero, i p' p e p qua si semplificano, no? Quindi avrò semplicemente uno meno q su k più q moltiplicato per m meno k meno q su m, attenzione, se qui avrò m meno k più k, quindi k vanno via, m meno q. Quindi questa è la formula semplificata. Adesso voglio prendere un caso particolare, no? Un caso particolare, posso prendere, ad esempio, un caso per mettere delle cifre dentro questa formula. Quindi scegliamo k è uguale a 3, cioè che il tempo di attesa per il farmaco affinché diventi ufficialmente trattata una persona che l'ha ricevuto è 3 settimane, diciamo, quindi il k è uguale a 3. Supponiamo che ci siano 10 periodi di vaccinazione, cioè che alla fine di 10 periodi tutta la popolazione è stata vaccinata. A questo punto, se fate il calcolo, avrete, fate il calcolo, otterrete 30 su 30 più q, 7 meno q. Questa è la formula in questo caso. È la formula specificata a k uguale a 3, m uguale a 10 per la situazione dove il farmaco è di efficacia uguale a 0. E adesso, ovviamente, devo fare le valutazioni, cioè quanto vale e3 più 1, cioè la prima valutazione, no? Poi avrò e3 più 2, eccetera, eccetera. Ora, se rimpiazzate q con 1 all'interno di quella espressione, cosa abbiamo? Beh, abbiamo 30, qui abbiamo 30 più 7 meno 1, 6, qui è 1 per, non cambia, 7 meno 1, 6, più 6, quindi 30 diviso 36, e 30 diviso 36 è 5 sesti, e 5 sesti è più o meno 0,833. Quindi, più dell'83% di efficacia apparente di questo farmaco, grazie a questo barbatrucco statistico di queste prescrizioni strane e incoerenti, che però sembrano giustificabili in qualche modo. si è passati da e uguale a 0 a e3 più 1 uguale circa all'83%. Poi, ovviamente, se si calcola al tempo 2, se si fa il calcolo, si ottiene che il tasso scende, eccetera, eccetera, in realtà quello che si ottiene è che il tasso scende, e poi l'efficacia scende e poi piano piano ricomincia a salire di nuovo. Cosa che, ad esempio, se andate a vedere le tabelle di Norman Fenton e Martin Hill, loro hanno delle percentuali di somministrazione del farmaco che sono non uniformi come le mie, e loro si mettono in una situazione dove scende sempre, no? Tra l'altro loro deducono da quella loro situazione che addirittura il fatto che poi questa efficacia scenda poi possa essere usato dal malevolo fabbricante di questo ipotetico farmaco anche per dire ecco, c'è bisogno di assumerlo una seconda volta, ma boh. Invece, se si modellizzano le cose come ho fatto io adesso, scende per un po', diciamo che per metà campagna si vede che l'efficacia diminuisce, dopo però riprende a salire. Ok, più o meno, poi ovviamente, questo era per il caso in cui l'efficacia è zero, se avesse un'efficacia non zero, allora usando di nuovo questo strano trucco, si può portare, ad esempio, un'efficacia del 50% fino, ad esempio, che ne so, del 90%, no? Quindi la si può comunque gonfiare anche se parte da una base che non è strettamente zero, ma qui è sconvolgente perché si parte da una situazione di un farmaco che è peggio di un placebo perché i placebo hanno una certa efficacia per il fatto stesso che vengono somministrati, quindi questo è peggio di un placebo e addirittura poi dopo riceve un'efficacia di più dell'83%. Va bene. Morale della storia, perché qui mi fermo, dobbiamo essere estremamente attenti a come vengono costruite le statistiche che ci danno impasto, no? perché, come dice il proverbio, il diavolo è nei dettagli. Grazie per l'ascolto.